Avresti voglia di prenderti qualche giorno per rilassarti e per ricaricare le tue batterie? Rimangono ancora tre posti disponibili per il nostro prossimo evento sul Lago Maggiore. Si tratta di un retiro di 5 giorni dal 4 al 8 settembre, dedicato al benessere, al relax e alla condivisione. Praticheremo insieme esercizi di Tai Chi e di Qigong, che sono antiche pratiche energetiche cinesi, che servono per aprire il corpo e raggiungere uno stato di benessere e di equilibrio. Avremo con noi i nostri chef Alessia e Davide, che ci accompagneranno con la loro deliziosa cucina, e avremo un programma denso di attività, fra cui meditazione guidata, cerchi di condivisione, escursione al lago e molto altro. Quindi, se ti interessa partecipare o semplicemente informarti di più, puoi visitare la nostra pagina web Spiritals Academy, link qua sotto, o puoi contattarci personalmente tramite un WhatsApp o email. Intendo ti ringrazio, ti saluto e ci vediamo presto.